Se voi andate a vedere la sostanza, tutta questa dinamica è stata innescata dalla cosiddetta sinistra, ma quella non è più sinistra. Io ho qua il piano di rinascita democratica di Lizio Gelli della P2, abolizione dell'articolo 18, l'ha fatto Renzi, riduzione del peso dei partiti di massa. Il partito comunista è stato sciolto da Occhetto e poi da D'Alema che ha proseguito in quella linea lì. E poi liberalizzazione delle tv e dei mass media, cioè Berlusconi, abolizione delle province, riduzione del numero dei parlamentari. Il piano della P2 e del Movimento 5 Stelle, Sanzonetti prima lo ha detto, la riduzione dei parlamentari, l'idea che ci siano pochi parlamentari, significa che le lobby conteranno di più perché avranno meno parlamentari con cui avere contatto. Se uno vuole essere vicino davvero alle persone, devi avere un certo numero di parlamentari.